oi 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 Brutalegend Madonna quanto turbo Si vola E no Ah con le X si sparava ok Mentre con il quadrato si fa le fiamme Tra l'altro che buio Porca troia Oh guardatelo L'aurora boreale L'aurora del metal insomma Che figato ma perchè non si può vivere in questo posto Scusa Che succede? Avete problemi ragazzi? Ragazzi ma perchè dovete bullizzare un povero Un povero cervo Il cervo del metal Il cervo del metal Preto? Fire! Madame Benvenuti a Bladehenge Eccellente Quando si attacca? Attacca! Siamo sotto attacco Quanto di sirene Vedete le luci? Cosa sta succedendo? L'armia General Lionwhite ha stato trovato nel movimento In questa direzione Qual è il plan? Il plan? Il plan è la vittoria Lars, questo non è una fortuna Come possiamo trovare la terra qui? Posso sviluppare qualcosa di veloce Non è una fortuna Non è una fortuna Non è una fortuna Non è una fortuna Ma che cosa è? L'ingegnere Perfetto, vieni con me Perfetto, vieni con me Perfetto, vieni con me Tra l'altro è un attacco notturno Bastardi Un pancoscenico Dà il miglior spettacolo rock del mondo Yes, now L'hai visto? Minchia ragazzi Oh wow Wait, where's the button for glowing people? Whoa By the Titans I've heard stories The Titans were said to have summoned a force from deep within the ground with special rituals Chants and music long forgotten They used this force to power their entire civilization They do seem to have an energy about them They're fans They come for the show And yes, with the energy of the fans we can do anything They look bored I can fix that Fate fare, signori Fate fare, fate fare, fate fare Guardate qui Guardate qui Merchandise, fat Merchandise, fat Maybe hats No, prettamente vogliamo magliette, spille E se possibile il cd della band Grazie I cappellini li puoi anche tenere, sinceramente parlando Ed è vero Porci Per tendenza il merchandise che va di più sono spille e magliette Spille e magliette vanno la grandissima Oltre agli album della band Merchandise è come un wedding It's immaterial thing, yes, but it's also A symbol of a deeper devotion That helps you remind me My and white men have been seen approaching the field What should we do? All right, showtime folks Everybody to your stations Magus, get in your booth and I'll call you when it's time to send someone to the stage Boss, I'm already in the booth Bella madonna Santa madonnina, veloce Allora, intanto prendiamoci anche questi fan Prima che arrivi il macello più totale Perché nel senso Sono qua, che cazzo li fai? Non li accontenti? Ok Ok, poi Butta fuori gli headbangers Butta fuori gli headbangers Che poi in realtà si può fare questo Vediamo se posso Perché non posso saltare sul palco? Forse non posso finchè non sblocco quell'altra cosa Ci siamo? Mangus, equip the stage for Thunderhogs Thunderhogs, check Mangus, we need a Thunderhog out here One Thunderhog coming up Ok Ok Ok, radunateli Oh, sta facendo l'alberta Ok, noi siamo pronti Dove sta la gentaglia? Ah, devo Prendiamo un altro paio di loro Prendiamo un altro di lui Vediamo un po' che ore sono Minchia, quasi mezzanotte Che palmi Ok, chiamiamo anche lui E ci siamo Madonna che volo I'm just here for the fight T Come this way Think I'm a good war Now, that's what I call an army This Adminato Ok, e come scusate Well, some sort of Bob is definitely in order Glass, how open, why do you put your mind in four years? Your former slaves are revolting line white Just like your clothes We'll see about that The more sophisticated miners have remained in my employ As of the girls who know it best for me And Killmaster, is it some of your own men have decided that there is property made from those little spiders of the world? Are you done talking? I'd like to get this over with Don't worry, this won't take too long I know how to handle it I'd like to get this I'd like to get this Oh my God, a Glamster Che cazzo I mediocri della musica Andiamo Oh, i nostri fan, i nostri fan Bitch, i nostri fans Aspettate un attimo che Ok, non trovavo il tasto BAM Beccati questo, puttanella Dove sono? Dove sono? Dove sono? Dove sono? Ah, la, 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 ragazzi La, 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 la Andiamo, 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 andiamo Beccatemi, questo scioglifaccia, bitches Dai Dai, madafucca La schiena Eddie, cosa è? Niente, credo che ho appena scelto in la back C'è qualcosa che sta in là? Potremmo scelto? I think whatever hit me, it's gone Eh, no worry about it, Ben I'm sure I'll feel better after I kill some guys Tch Eddie, more dudes on the way Dove? Dove? From the far side of the feet They're coming around that big guitar statue So, like 11 o'clock? No, right now, man, right now! 11 o'clock is the direction, Mangus Ah, ecco che serve Oh, cazzo Merda Arco figa Aia, merda E qua, puttana Mannaggia Mannaggia la lacca E muori E muori E che Cristo Aspetta un attimo, devo Chiamare un altro medico Chiama il medico, serve il medico da campo Dai, ragazzi Vincito io Ma cazzo Dove? Ah, ok Io stavo facendo il cazzo di assolo Puttana, ciavacca Mi hanno rovinato Che cazzo succede? Come, 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 bam Yeah Beccatemi questa E ora morite male Bam Bzzzzzzz Damme ragazzi Aia merda Aia merda Aia E muori E muori Arco figa facciami questo grido di battaglia oh yeah chiamiamo un po' di medici e chiamiamo un po' di questi tutti di qua tutti di qua dove 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 ah ma c'è il puttaniere vieni qua puttaniere vieni qui c'è il puttaniere tutti di qua ragazzi bam quindi da davanti eccolo qua dove 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 ombra sto morendo sto morendo sono morto? ah si sono morto vabbè i fans mi aiuteranno andiamo ragazzi tutti la tutti la tutti la tutti la tutti la tutti la bam in scivolata di potenza proprio ci serve un medico scusa scusami potresti lemmi venire un attimo qua dove? ok siamo già qui siamo puntuali sulla tabella di marcia andiamo dove dove ombra focussatelo 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 oh madonna che botta ti salvo io lemmi ti salvo io oh arco figli arco figli madonna questo quanto il turo madonna che palle oh vieni un attimo qua tu andiamo un attimo di qui va e bam ok grazie scusa un attimo ma chiamiamo un altro medico e un altro medico torniamo al palco ragazzi torniamo al palco andiamo 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 arriva un sacco di people qui ragazzi 2 3 oh morite allora un po' credo di averli steccati andiamo adesso a vedere perchè comunque vi ricordo che stiamo giocando in modalità brutal vediamo un po' se posso evocare un po' di ok via ok oppa ok 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 orca bastardo madonna questo quanto è duro oh via grazie ah la schiena la schiena l'ho fatto la puntura allora vediamo di richiamare a noi un po' di people un po' tipo così ecco oh oh madonna che palle queste fu veramente una chiavica ma muori puttana tiè beccati questa damose e zoom disperdo un po' la gente forza ragazzi oh oh la cosi dai puttana la venduta no vittoria brutale bitch oh oh enough I've never liked this town anyway I don't know what's got me into you Lars but I know one thing you will regret what you've started here huh quello da un po' che non vedete il parrucchiere vero for too long we have lived in pits waiting for good fortune to trickle down to us but our days of waiting are over we will not sit here and let Lionwhite decide what happens next we will gather up this great army and take it on the road we will march on Lionwhite and free every man woman and child in that city and then we will bring it crashing to the ground yeah alla fine è riuscito a cadermi questo cazzo di joystick and handy times hack her up quick i'll be back soon and we'll hit the road copy that quello si che un cazzo di pullman e comunque porcchi termino quale episodio spero che il video vi sia piaciuto like, comment, share, iscrivetevi se non siete iscritti cosa stupido iscrivetevi e noi ci rivediamo nel prossimo video a presto porcchi ciao 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 ciao